ciao ragazzi oggi facciamo le tempere fai da noi o meglio fai da te con il nuovo laboratorio delle tempere la nuova genialata creativa di crayola con cui possiamo andare a realizzare le nostre tempere personalizzate inventandoci i nostri colori con un set di accessori facile da montare divertente da usare grazie vedremo al meccanismo manovella è pratico da riporre si ripiega su se stesso ha anche tanto di maniglia e c'è un set ricarica refill per realizzare sempre nuove tempere personalizzate andiamo come sempre ragazzi a fare il nostro giro di scatola per realizzare l'unboxing partiamo dalle istruzioni che passo passo in maniera proprio visuale ci aiutano a montare il laboratorio e poi ad utilizzare al meglio con la guida dei colori che vi ricordo ragazzi quella del laboratorio dei pennarelli vero e ci insegna utilizzare quelle che sono il segreto il segreto proprio colorante che sono le strisce di tempera che appunto colorano la base vedremo neutra e che permettono di fare i nostri colori colori personalizzati proprio da noi questi sono i vari elementi contenuti all'interno della confezione che adesso andremo proprio a costruire vedete ai lati della base ci sono queste due tavolozze tipo tavolozze di colore che agganciamo con questi ganci una tanto una volta quindi quando montiamo il nostro laboratorio dopodiché basta grazie a questo meccanismo andarle a sollevare così verso l'alto il nostro laboratorio si richiude perfettamente ogni accessorio ha il suo spazio questo è il case dedicato alle strisce colorate ogni colore blu giallo rosso ha il suo case dedicato abbiamo un case anche per il pennello che si incastra ben bene non si perde quando vedremo porteremo in giro il nostro il nostro laboratorio delle tempere il vasetto dedicato alla tempera neutra con un ugello che salva goccia quindi quando mettiamo la tempera assolutamente non cola c'è uno spazio qui dedicato per lui ma vedremo che sul retro già lo si intuisce uno spazio per portarcelo in giro in sicurezza qui abbiamo i case dedicati ai vasetti abbiamo 15 vasetti a disposizione per realizzare le nostre tempere poi la maniglia si inserisce qua sopra e voilà ragazzi qua sul retro vi dicevo mettiamo il nostro la nostra tempera base e siamo pronti a creare questa è la guida dei colori vedete cinque strisce colorate per ogni vasetto quello il numero esatto da utilizzare possiamo abbinare le diverse strisce e andarle a inserire nella tempera che deve riempire avete visto metà metà del vasetto ma tra un attimo lo vedremo nel dettaglio poi abbiamo anche le strisce adesive per personalizzare col nome il nostro colore ogni accessorio dicevo al suo spazio questo è il vasetto che va inserito in questa in questa cavità dopodiché riempiamo a metà con precisione assoluta ragazzi la nostra tempera e poi andiamo a metterci quelle che sono le strisce colorate le strisce colorate vengono via molto semplicemente un po diciamo il meccanismo dello sticker quasi vanno un po ripiegate ogni diciamo strisciata ne contiene realtà altre cinque e vado a mettere in questo caso avete visto quattro strisce gialle e una striscia e una striscia blu voglio fare infatti un verde molto molto leggero faremo un verde ragazzi molto particolare una volta che ho richiuso il vasetto il vasetto va messo a ore 11 in questo modo poi è ruotato leggermente a questo punto si incastra nel porta vasetto miscelatore ho la mia manovella ragazzi giro la grande la manovella e via bisogna girare con energia questo a quel punto ho preso la base con la mano sinistra da dove c'è anche la base economica ho preso la mano destra che è la mia mano più potente e ragazzi ho shakerato alla grandissima ci vuole circa un minuto di shakeraggio qui ho accelerato ragazzi non sono diventato super veloce io magari e a questo punto dopo un minuto circa vedo proprio che il colore proprio anche visivamente lo vedo dall'esterno perché il vasetto è trasparente si è miscelato e ottengo un colore perfettamente omogeneo vedete a questo punto il giallo e il blu si sono mescolati e ho ottenuto un verde perfetto lo vado ad applicare qui sul foglio scusate per questione di luminosità il verde si vede non benissimo ma tra un attimo lo vedremo dall'alto quando proprio andremo a colorare è un verde gbr si ragazzi perché voglio cercare di replicare i colori gbr perché ma lo scopriremo tra un attimo quando andremo ovviamente a spitturare a colorare il tutto una volta realizzato il vasetto ogni vasetto va nel suo case dove si appiccica per bene quindi se lo porto in giro con maniglia non ho assolutamente caduta di nessun accessorio vado a realizzare il secondo colore ragazzi quindi a questo punto se ho già fatto il verde gbr tocca al rosa gbr e allora ci metto quattro strisciati di rosso una strisciata di giallo e con il pennello avete visto vado a ricoprire tutte le mie strisce colorate che vanno ben bene prima di shakerare ricoperte con tutta la tempera base una volta ricoperto richiuso il vasetto inserito nel mio portatempera a questo punto shakerò la grande e via avete visto il colore è diventato un rosa rosso gbr perché infatti non so mica se è rosa o rosso il colore gbr della gym devo chiedere a elisa ok ragazzi ci metto la mia strisciata adesiva che indica il mio colore e lo metto nel mio po nella mia tavolozza porta vasetti terzo colore vado inserire come sempre fino a metà la tempera e ci vado a mettere in questo caso facciamo un colore flat cioè un colore tutto monocolore ci metto cinque strisciate di blu che diventerà azzurro ovviamente sulla base tempera e qua ragazzi ho realizzato lo slow motion scusate avete visto quindi giro la manovella e avete visto comunque come è difficile anche prendere il movimento con lo slow motion perché il meccanismo proprio shake alla grande il vasetto e il risultato è l'azzurro gbr si devo dire che è proprio lui ci metto davide no ricordati di metterci esatto mettici prima la strisciata quindi qui adesiva con il nome azzurro gbr a questo punto lo vai a riporre sulla tavolozza ma andiamo a vedere anche altri colori perché ragazzi perché vorrei farvi vedere anche la differenza tra le diverse tonalità che possiamo creare utilizzando le strisce in questo caso avete visto ho messo tre strisciate blu e due strisce colorate gialle ricopro per bene tutto aiutandomi col penarello con la tempera base e che colore andiamo a realizzare andiamo a realizzare un verde vedete che ha tonalità una tonalità un po più scura un verde craiola rispetto a quella del verde gbr che è un po più chiaro questo proprio per farvi vedere come si possono realizzare tantissimi colori e combinazioni andando a combinare quelle che sono le 75 strisce di colore di tempera che troviamo all'interno del laboratorio delle tempere e poi facciamo un altro colore flat il giallo con 5 giallate di tempera per realizzare ovviamente il giallo craiola ragazzi e a questo punto realizzati per bene i nostri colori voglio farvi vedere la differenza dall'alto dove la luce non dà troppo fastidio al foglio al foglio bianco vedete la differenza tra il verde chiaro gbr e il verde più scuro craiola abbiamo anche un'ottima tempera per andare a dipingere e ora ragazzi andiamo a dipingere la scrittura gbr che potete anche scaricare qui sotto nelle info del video se volete andare anche voi a colorare oggi e vi ispira la colorazione dopo aver visto questo video e coloro la b coloro la g e coloro la r di gbr ragazzi e il pennello anche questo devo dire funziona molto molto bene molto molto morbido per andare a realizzare anche in punta di pennello quelli che sono i dettagli e ora vediamo la differenza dell'applicazione del verde un po più scuro lo vediamo sulla scritta craiola ragazzi che anche questa vi lascio qua sotto nelle info del video per scaricare e colorare per bene e l'effetto che si si ottiene veramente quello di una tempera molto molto uniforme vedete i colori che ho mescolato all'inizio non si vedono assolutamente perché il shake lo shake raggio che ho realizzato è perfetto grazie al laboratorio delle tempere si ottiene un colore proprio proprio uniforme ragazzi e poi come vi dicevo c'è anche la ricarica ricarica che contiene cinque vasetti ma la quantità di tempera e la quantità di strisce sempre 75 per realizzare molto più molto più ovviamente cinque vasetti avendo tutti a disposizione quelli del set base iniziale abbiamo anche degli anelli porta vasetti e anche un portanelli portanelli da inserire sul retro nel nostro laboratorio delle tempere per una super creatività ragazzi come sempre ragazzi se avete info domande e commenti sul laboratorio delle tempere vi aspetto qua sotto nei commenti del video un bel pollicione se questa nuova generata creativa vi è piaciuta io vi aspetto prossimi video qui su gbr a presto alla prossima ciao ciao davide